Ciao Luciana e benvenuta su Veggie Channel. Grazie Massimo. Sono anni che parliamo di diete a base vegetale, di studi scientifici, eccetera. Oggi vorrei porti una domanda che è una delle domande più gettonate del web. Ma questi vegani sono più in salute o no rispetto agli onnivori? La domanda è più che legittima dal momento che le informazioni che vengono veicolate dai mass media sono costruite ad arte per far credere che i vegani tendenzialmente siano malnutriti e che quindi abbiano tutta una serie di complicanze per la salute legate al fatto che non si nutrono abbastanza. In realtà gli studi che hanno valutato la salute dei vegani non dicono questo. Cioè il rischio di malnutrizione è un'infinitesima possibilità detrimente per la salute. Ma gli effetti sulla salute di una dieta vegana sono invece molto positivi. Nel senso che quando sono stati valutati da soli i vegani, in molti studi i vegani e i lato-vegetariani sono studiati assieme e vengono confrontati con gli onnivori, con quelli che mangiano il pesce, con i semi vegetariani. Però alcuni studi avevano un numero adeguato di vegani per poter trarre delle conclusioni statistiche che fossero valide, insomma che avessero una loro validità. E in questi studi in cui i vegani sono stati studiati e confrontati con il lato-ovo, con quelli che mangiano il pesce, con quelli che mangiano poca carne e con gli onnivori, in questi studi i vegani vanno meglio. Allora, hanno sicuramente, sono gli unici che hanno il peso corporeo normale rispetto a tutte le altre categorie dietetiche. Hanno una ridotta incidenza di tumori rispetto agli onnivori, per esempio, è stata fatta due anni fa una meta-analisi che ha valutato l'incidenza di tumori in questi soggetti e si è visto che mentre i lato-ovo hanno una riduzione del rischio dell'8%, i vegani ce l'hanno del 15%, così come hanno un rischio ridotto di due terzi, di diventare diabetici, di diventare ipertesi. Non solo, poi ci sono gli studi di intervento, cioè gli studi in cui viene data la dieta come se fosse una medicina. Quindi sono esattamente gli stessi studi che si fanno per provare nuovi farmaci, ma si fanno con Dan, tenendo un gruppo di controllo che può essere a dieta abituale oppure a diete speciali, quelle raccomandate dalle società scientifiche, come la dieta per il controllo del colesterolo, la dieta per il controllo del diabete. Quindi questo costituisce il gruppo di controllo nei confronti del quale io valuto l'effetto della dieta che vado a somministrare io, che molto spesso, sempre di più, viene usata alla dieta vegana low fat, quindi senza grassi da condimento aggiunti e con una limitata quantità di frutta secca. In questi studi si è visto che la dieta vegana è in grado di arrestare il decorso e migliorare i valori di colesterolo, trigliceridi, di pressione arteriosa, migliora l'equilibrio glicemico e quindi le persone diabetiche, per esempio, possono ridurre la quantità di medicina che prendono, alcuni possono addirittura abbandonare la terapia antidiabetica. Ovviamente poi ci sono quelli che facilissimamente dimagriscono, con una dieta vegana è assolutamente possibile dimagrire senza fare la fame, mangiando a volontà. Le ripeto, l'unica attenzione è quella di non esagerare con i grassi, con i grassi aggiunti, che sono poi i grassi da condimento, che sono ipercalorici, ma non solo, perché la dieta viene data senza grassi, non solo per un problema di calorie, ma anche perché si è visto che i grassi vanno a interferire con il recettore dell'insulina, che è quell'ormone che alla fine è implicato in tutte le situazioni cardiometaboliche. Quindi ridurre i grassi nella dieta fa sì che l'insulina possa lavorare meglio, che quindi non ci sia da parte del pancreas una necessità di aumentare i livelli di insulina per poter avere lo stesso effetto, che avrebbero livelli più bassi se l'insulina fosse in grado di funzionare. In questo modo si è visto che praticamente molti diabetici guariscono, gli ipertesi pure, gli obesi diventano magri, senza bisogno di passare per la chirurgia. E poi sono in corso, non sono ancora finiti, ci sono altri lavori che mirano a valutare un po' tutto il profilo cardiometabolico e anche sono stati fatti, per esempio nel passato, degli studi sulla regressione dell'arterioscariosi coronarica, cioè gente che non riusciva a camminare da qui a lì perché gli veniva la crisi anginosa, cambiando dieta nel giro di una settimana, già non avevano più il sintomo da insufficienza coronarica, insomma. Come è rappresentato da un famosissimo grafico che è stato concepito dal professor Sabatè, la fetta di popolazione che è in buona salute è superiore a quella onnivora, perché il rischio di malnutrizione è inferiore e il rischio di assumere eccesso di nutrienti dannosi è pure inferiore. Le componenti dannose della dieta sono tutte di origine animale, perché sono i grassi animali, sono le proteine animali, sono i ferroeme, sostanzialmente questi tre. I cibi protettivi invece sono quasi esclusivamente di natura vegetale e parliamo di sostanze fitocomposti, sostanze che la pianta naturalmente produce per difendersi dalle avversità ambientali, oltre ovviamente alle fibre, ai carboidrati complessati alle fibre, che sono tutt'altro che dannosi come qualcuno vuol credere. I grassi sono grassi buoni e le proteine vegetali si è visto che in realtà hanno degli effetti favorevoli sulla salute, al contrario di quelli animali. Allora, il rischio di malnutrizione non è il rischio di non mangiare abbastanza vitamina B12, sì, per carità c'è anche quel rischio lì, però il vero rischio è di non consumare queste sostanze che sono protettive per la salute. E questo fa la differenza tra chi consuma molti cibi vegetali e chi ne consuma pochi, sostanzialmente. Chi ne consuma pochi naturalmente li rimpiazza con cibi animali e va anche incontro al rischio di eccesso da componenti dannose della dieta. Come mai, nonostante ci siano già ormai numerosissimi studi che comprovano l'efficacia di queste diete, sia per la prevenzione, a volte anche per il reverse, per invertire il decorso di una malattia come il diabete di tipo 2, per esempio, come mai si fa fatica poi ad applicarle negli ospedali o a prescriverle negli ambulatori? Se sono scientificamente provate queste cose e che possono indubbiamente salvare delle vite o comunque migliorare la qualità della vita di moltissime persone, perché non si impiegano? Perché non si procede? Eh, ma questo non lo devi chiedere a me, lo devi chiedere a chi non le applica. Chi non le applica probabilmente non le conosce nemmeno. Chi si occupa di medicina non fa esami di nutrizione e se li facesse sarebbero comunque dei corsi sulla dieta tradizionale. Non credo che gli farebbero una formazione su come pianificare una dieta a base vegetale che è protettiva per la salute. C'è tutto poi il discorso di profitto, cioè far star bene le persone abbassa il pil. No, un'altra cosa, io ho sentito, spesso ci viene detto, sì, però questi studi scientifici non sono come gli altri, sono inferiori, sono minori, sono piccoli, non sono, come si dice, a lunga durata, ecco. Questa è ovviamente una falsità, nel senso che adesso ce ne sono talmente tanti che hanno cominciato a uscire delle meta-analisi. Da più o meno del 2012 esce una meta-analisi all'anno. La meta-analisi è un'elaborazione statistica dei risultati di differenti studi fatti sullo stesso argomento. Quindi la meta-analisi include decine di migliaia di soggetti. E la statistica vale quanto più il campione è vasto, perché in questo modo il campione vasto riesce a rappresentare la popolazione che io voglio descrivere. Tanto più il campione è piccolo, tanto più è facile che questo campione si discosti in realtà dalle caratteristiche della popolazione che voglio descrivere. Quindi il fatto di avere numerosi studi che sono iniziati ancora negli anni 50-60, poi adesso hanno continuato a essere iniziati nuovi studi, sempre studi di popolazione, su gruppi di soggetti che seguono diete diverse. E sono così tanti, ripeto, che è stato possibile fare delle meta-analisi. Le meta-analisi sono in assoluto la dimostrazione scientifica più valida, si dice quella che ha la maggior forza dell'evidenza, per sostenere un certo dato. Quindi i risultati di una meta-analisi non possono venire discursi da chi che sia, sempre che ovviamente non ci siano due meta-analisi che dicono due cose diverse, ma al momento questo non è assolutamente accaduto. Diciamo, tutto quello che noi sappiamo sugli effetti sulla salute ci provengono proprio da tutti questi studi che sono stati fatti in questi anni, insomma. E questi studi dimostrano appunto che sicuramente non c'è paragone tra mangiare vegetale e mangiare non vegetale. Ecco, per chiudere, se volessimo fare un pronostico per il futuro, facendo un paragone a quanto tempo ci ha messo il concetto che il fumo fa male a passare nella nostra cultura e quindi la gente incomincia a smettere di fumare e ancora ora non è effettivo al 100% questo concetto. Quanto tempo ci metterà l'opinione pubblica a considerare le diete a base vegetale interessanti per la salute? Io non ho la sfera di cristallo, quindi non sono in grado di rispondere a questa domanda. Io credo che però abbiamo un'emergenza climatica. Parlano che abbiamo ancora poco meno di due anni di tempo per modificare le nostre abitudini in modo da ridurre il nostro impatto ambientale. L'impatto ambientale, che se rimane questo, porterà ad un aumento della temperatura di oltre 3 gradi, il che sarà devastante per l'equilibrio dell'intero pianeta. Si scioglieranno i ghiacciai, si alzeranno i livelli dei mari, molte specie spariranno e forse anche la specie umana è destinata a estinguersi proprio in questo modo qua. Quindi io credo che più che per la salute, adesso bisognerebbe diventare vegani per motivi di ecologia. L'ecologia è qualcosa di molto più stretto rispetto a quella che può essere la salute. La salute è un fatto personale, anche di popolazione, però insomma è prima di tutto un fatto personale. L'ambiente ci viviamo tutti, quindi se tutti vogliamo continuare a ottenere da questo pianeta quello che ci serve per sopravvivere o per vivere bene, dobbiamo rispettarlo. Rispettarlo vuol dire non distruggere, non esternalizzare sull'ambiente tutti quelli che sono i costi di produzioni che sono devastanti per l'ambiente, come è appunto la produzione di cibi animali. Quindi, ripeto, l'emergenza è ambientale. Va ben preoccuparsi della plastica, va benissimo, ci mancherebbe, però non c'è solo la plastica, non ci sono solo le sostanze chimiche che vengono prodotte dalle industrie chimiche, non ci sono solo le sostanze chimiche che vengono utilizzate per la produzione del prosecco, ma c'è tutto un settore di effetti degli allevamenti intensivi sull'ambiente che non può al momento essere negato, nonostante ci siano i negazionisti che pur di salvaguardare il proprio profitto sono disposti a mandare il pianeta in rovina. Grazie Luciana e alla prossima intervista. Grazie Massimo. Grazie a tutti.